Il governo e le istituzioni devono intervenire. Quello che è successo ha distrutto opere pubbliche, strade, muri, alberi. La bellezza dei nostri luoghi è stata stralciata via dal maltempo. Il Salento, il nostro Salento, la nostra terra, ha bisogno di una mano. Questo è un accorato appello di aiuto lanciato dai comuni di Castrignano del Capo, Leuca, Gallipoli, Nardò, Porto Cesario e Uggento. Vento, trombe d'aria, furiose mareggiate, bombe d'acqua, pioggia, hanno devastato i nostri centri. Peschi e recci, pontili, barche da diporto, strutture commerciali, la spiaggia, le dune. Tutto è stato distrutto dalla violenza del maltempo. Immagini apocalittiche e milioni di euro di danno hanno messo in ginocchio il Salento. Imprenditori e amministrazioni comunali sono in ginocchio. Il Salento ha bisogno di una mano. Il cuore del Salento è stato duramente colpito. Il Salento deve aiutare il Salento a rialzarsi. Una mano dopo l'altra, un piccolo contributo per aiutare agricoltori, imprenditori, commercianti, pescatori e famiglie che hanno subito danni dai violenti eventi climatici che hanno colpito il nostro territorio. Nessuno deve rimanere da solo. Restiamo uniti. Una mano aiuta l'altra. Rialziamoci insieme con una mano sul cuore. Basta poco. Basta una mano. Batti cinque al Salento. Aiutiamoci. Diamo una mano per costruire. Un sorriso per il Salento. Un piccolo impegno. Una mano. Diamo una mano per far tornare il sole. Una mano per il Salento. Una mano per il Salento è la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi a favore dei cinque comuni costieri maggiormente colpiti dalla sconvolgente forza della natura. È possibile donare il proprio contributo sul conto corrente della BCC di Leverano, filiale di Lecce.